Sono cresciuto nel laboratorio di mio padre guardandolo lavorare mentre creava le sue cornici. C'è questa magia nel creare un oggetto che in realtà non esiste. Il mio nome è Roberto Risso e sono un corniciaio. Rappresento la seconda generazione di Risso Cornici a Chiavari in Italia. In questi anni c'era stato un forte cambiamento nelle dinamiche del commercio e le vendite online hanno cambiato radicalmente il modo di acquistare. La paura è quella di, essendo una piccola attività, di non poter avere un futuro. Con WhatsApp Business noi abbiamo ampliato la nostra clientela. Per noi è importante invitare i clienti nella nostra attività perché questo è il modo per fargli comprendere la lavorazione che noi realizziamo. Io spesso aggiorno lo status di WhatsApp Business con fasi di lavorazione particolari. Quindi mentre dipingo, mentre faccio la gessatura. Quando parlo con Roberto su WhatsApp mi manda delle foto di come sta venendo la tela e quindi lo trovo molto veramente comodo. WhatsApp Business ha cambiato radicalmente la visione della nostra azienda. Prima ci sentivamo una piccola realtà in un piccolo posto e ora abbiamo la possibilità di trasmettere il nostro mestiere e la nostra filosofia a una clientela molto più ampia. Ciao! Grazie a tutti.